Triburo Sonera, amici di ogni dove e amici di ogni squadra, ma soprattutto amiche, bentornati a questo appuntamento con il vostro Marietto Milanista. Da stamattina ancora un po' il raffreddore è rimasto tale, ancora qualche miglioramento, però ancora siamo un po' annebbiati anche col cervello, cerco di rimanere calmo per poter traspassar, come si dice in Spagna, potervi passare queste mie pagelle, questo mio pagellone di questo fine settimana. Innanzitutto dire che è stata una partita che veramente mi ha fatto fare dei balzi dal divano, che sinceramente era un sacco di tempo che non vivevo una partita così intensa anche da parte del Milan. Però detto questo cominciamo subito con i voti, inizierei da Gigio, voti che come sapete io non do 6-7, do la sufficienza, buono, discreto, già l'ho spiegato tempo fa. Gigio per me è più che sufficiente, togliendo quel errore di valutazione che ha portato poi al primo gol, il resto della partita è stato impeccabile, ci ha salvato in almeno due occasioni gol praticamente fatti, se non tre. Quindi per me è più che sufficiente. La difesa anche si è comportata bene, a parte qualche sbavatura, però non posso non dare la sufficienza. Tanto Conti, che Chier, che Romagnoli hanno fatto una discreta partita, non posso dargli l'insufficienza. Anche Conti, a parte il suo secondo gol che ha sbagliato probabilmente nel coprire il giocatore dell'Udinese che poi ha fatto gol, per il resto ha fatto una partita, anche ha messo di cross, si è proposto molto sulla fase offensiva. Ho visto una partita più che sufficiente anche da parte sua. E poi c'è, ragazzi, poi c'è... E' un misto ormai già tra cavallopazzo e treno. Teo Hernandez, l'ho già detto settimana scorsa, fategli un contratto vitalizio. Sto ragazzo è un fenomeno. E' il vero fuoriclasse di questo Milan, a parte Ibra, il vero fuoriclasse è Teo Hernandez. Ragazzi, come fa vibrare sto ragazzo quando comincia a mettere la marcia e corre? E' quel gol da fuori area, veramente mi sono venuti i brividi quando lo visse entrare. Questa potenza, cioè, è stato, a mio avviso, insieme a Rebic, sicuramente il migliore in campo. Su questo non è la prima volta. E praticamente quasi sempre finisce allo stesso modo. Quindi non scherziamo Società Milan a fare delle cazzate che arriva il primo con cash e lo andate via, perché uno come questo dove cacchio lo andiamo a prendere. Grande intuizione di Maldini e su questo devo essere onesto. Magari una delle poche che ha fatto da quando è arrivato, però questa è stata un'intuizione impressionante. Dopodiché abbiamo il centrocampo e abbiamo un super Castiglieco. Mi sembra rigenerato. Secondo me, ripeto, come ho detto stamattina nel video, Ibra è stato il talismano. E' la magia per questa squadra che veramente era morta. Aveva bisogno di un... Qua si dice... Una scossa, ecco, come veniva in italiano. Una scossa nell'ambiente da parte di qualcuno che veramente ha le palle per farlo. E solo Ibra era. E Castiglieco ne sta traendo ottime conseguenze da questa riva. Infatti è uno dei migliori. Poi ha fatto un numero, all'inizio, secondo tempo, mi sembrava un misto tra Ronaldinho e Rivaldo. Quando ha lasciato lì di pietra due e se n'è andato... Cioè, guarda. Grande, grande Castiglieco. Poi c'è la nota stonata di Cassi. Cassi, ragazzi, basta, basta. Questo qua non corre. Non corre. Non mi piace. Non mi piace proprio. Cioè, si vede che è un elemento discordante in questa orchestra nuova di questo Milan. E sinceramente, a mio avviso, è meglio che veramente, se qualcuno si presenta lì con 20 cocozze, darlo via. Anche con un prestito, però, con obbligo di riscatto che se lo prendano. Però se ne deve andare. Perché Cassi, per me, non c'entra più niente con questo progetto. Così come Jack, Jack Bonaventura, io non so se dietro c'è un discorso mentale, fisico, qualcosa che sia relazionato con il nuovo contratto. Non lo so, però Jack lo vedo sfasatissimo. Non è più il Jack di... Per esempio, lui ha avuto, al contrario, l'entrata di Ibra, non gli ha beneficiato. Probabilmente ha sentito troppo questa potenza. E probabilmente, caratterialmente, non ha retto. Però non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Spero che si ripigli, perché comunque Jack di cuori è sempre stato uno che ha messo l'anima per questi colori. Nonostante avesse avuto infortuni, nonostante tante storie. Benasser è il motorino di metacampo. È veramente, ha una visione grandissima. Partita per partita sta crescendo sempre di più. Sta prendendo, diciamo, forza e anche coraggio in certi tipi di dinamiche, certi tipi di azioni. L'unica cosa è che sto cartellino giallo è un cartellino un po' troppo facile che prende. Quindi devi stare un po' attento nei contrasti. Mi ricordo in parte anche come Ringhiogattuso là in mezzo. È uno che è un combattente, però la differenza è che c'è anche pedi buoni. Quindi io la sufficienza comunque me la serrano lo stesso. E ha un'altra nota, quella munizione alla fine. Che poi parleremo anche dell'arbitro. La munizione di Castiglieco è assurda. È assurda. Cioè veramente Pioli in panchina, secondo me se gli ha tirato delle madonne, aveva tutte le sue ragioni. Perché veramente è stata assurda quella munizione. Davanti. Davanti Ibra è stata una partita sufficiente. Non ha fatto tantissimo, però ha fatto un sacco di sponde come sempre. Si è mangiato un gol su 2-1 là di testa, che sinceramente l'avevo visto già saltare, ho detto questo è gol. Però, vabbè, c'è stato un piccolo passetto indietro rispetto alle altre partite, però la sua presenza in campo è fondamentale. Perché è veramente un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra. Quindi Ibra non si discute, è il talismano magico. E Leao. Leao ha fatto una buona prestazione. Leao si vede che veramente la vicinanza di Ibra gli sta portando beneficio, perché era anche lui un po' in confusione ai primi mesi. Magari c'era anche un discorso di adattarsi a certe dinamiche, di squadra, di spogliatoio, di città, tante cose. Però con Ibra, non lo so, sembra rigenerato anche lui. E poi arriviamo a Rebic. Ragazzi, Rebic è stato il vero mattatore di sta domenica, l'inesperato, proprio non ce l'aspettava nessuno. Cioè, Rebic ormai lo davamo tutti per partente, tutti quanti, io per primo, e lo dico, io non ho nessun problema a fare anche coming out, uscire fuori. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho divisione. Boh, io Rebic già l'avevo visto per me, l'avrei accompagnato io direttamente a Francoforte per tornare all'Eintracht. Però dopo sta prestazione, ragazzi, bisogna valutare, bisogna valutare. Perché se sei preso il piglio giusto, perché io dico sempre un nazionale croato, non è che questo si sarà dimenticato di giocare a calcio. Magari aveva bisogno anche lui di una scossa nell'ambiente come l'arrivo di Ibra. Perché Ibra, io continuo a dirlo, è lui il grande talismano. Ha smosso nell'ambiente giocatori che erano cadaveri. Quindi Rebic migliore in campo con Teo. Per finire do anche un voto, un giudizio su Pioli. Pioli, l'ho detto già forse qualche video fa, si è criticato secondo me un po' troppo prima del tempo. In una situazione che sinceramente già stava andando male con Giampaolo. E subito Pioli out. Neanche gli hanno dimostrato, gli hanno dato il tempo per dimostrare, di fare cose che veramente io penso che come normalizzatore sa fare. E di fatto, mettendosi adesso in questo schema del 4-4-2, secondo me ha trovato veramente la giusta soluzione per far sì che la squadra possa rendere al meglio. C'è ancora tanto da fare, perché ci sono state delle sbavature, però il cammino mi sembra che sia quello corretto. Quindi Pioli, come ho già detto in un altro video, è un allenatore che ha saputo e sa ascoltare. Non è uno che si ferma nei suoi principi, non è uno che si ferma su determinate schemi, devi giocare così, devi giocare così, no. Pioli è veramente un allenatore, un bravo allenatore. Ciò non significa che è un top player, però è un bravo allenatore e sta gestendo al meglio la situazione sicuramente con l'appoggio di Ibra. Ragazzi, detto questo, ci vediamo domani a un nuovo video e come sempre dal vostro marietto milanista non dimenticatevi di iscrivervi al canale, dargli un like se vi è piaciuto questo video, nell'iscrizione utilizzate la campanellina accesa per rimanere sempre aggiornati sull'arrivo e sull'entrata di ogni mio nuovo video, che normalmente sono sempre due, e che dirvi ragazzi, sono contentissimo. Questo Milan mi sta lasciando come un'ebbrezza, un sapore dolce che da tanto che non provavo. Ci vediamo domani, sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao, buona serata.